esordisce come attrice nel 2000 con numerose fiction televisive come distretto di polizia 3 e 6, forte, maestro, al cinema recita nei film tickets e troppo belli del 2005, e ho voglia di te del 2007, nel 2008 e nel 2009 e nel cast della miniserie televisiva I Liceali, con la reggia di Lucio Pellegrini. Nel 2008 è inoltre tra i protagonisti del film Quell'estate, regia di Guendalina Zampagni, presentato al Festival Internazionale del Film di Roma. Nel 2015 esce il film Si Detracket dal regista britannico Francesco Bori, in cui Marta ottiene la parte della protagonista Annette. Il film ha successo nel giro dei festival guadagnando il Van Gogh Grandview Reprise alla Amsterdam. Film Festival 2016 ottiene 5 candidature all'International Filmmaker Festival of World Cinema, Milan 2016 tra cui per Marta come Best Led Actress in a Short Film.